Arte d'artigianato si incontreranno nuovamente in uno dei borghi più belli d'Italia per un mix che da quasi 50 anni si dimostra vincente. Torna infatti per la 49esima edizione la mostra dell'artigianato della Valtiberina Toscana. L'appuntamento con la manifestazione di riferimento del settore è dal 25 aprile al 1 maggio. Un format collaudato per una manifestazione in linea con la tradizione ma caratterizzata da numerose novità che metterà ancora una volta in evidenza le eccellenze del fatto a mano nelle affascinanti botteghe del centro di Anghiari, 50 agli artigiani che animeranno il borgo della Valtiberina. Non mancherà poi uno spazio dedicato al settore artistico con le affascinanti opere esposte nella collaterale i maestri dell'arte tra Tevere e D'Arno, 20 artisti presenti per un totale di oltre 100 opere e le iniziative previste nei giorni della mostra, comprese le dimostrazioni dal vivo che consentiranno i visitatori di immergersi nel mondo dell'artigianato. La cerimonia di inaugurazione è in programma mercoledì 24 aprile alle 17 nella rinnovata Sala del Cassero, dunque il giorno prima dell'apertura delle botteghe.